Anna Passanisi, buonasera. Attrice augustana, provieni da una serie di repliche di uno spettacolo teatrale che ti vede coinvolta come attrice e come autrice. Insieme ad una collega Carmen Panarello creiamo una collaborazione che si chiama Stratagemma Teatro e proponiamo un progetto di teatro in natura. Lo spettacolo Marine Memory è stato ospite di due rassegne teatrali a Bova, in provincia di Reggio Calabria, a Noto, e ieri infine abbiamo chiuso in bellezza nella nostra città, a Brucoli, in riva al mare, sui temi dell'ambiente, dell'inquinamento delle acque, temi scottanti, non perché siamo in estate ma perché bruciano molto. Non per il caldo. Non per il caldo, sì. È uno spettacolo molto ben accolto. Ti ha vista coinvolta come presentatrice? Come presentatrice sarò coinvolta questa sera, vedete qui la cartelletta che mi identifica. Insieme a Davide Sbrogiò? Davide Sbrogiò, carissimo collega, amico di lunga data, tra noi c'è quindi una conoscenza, abbiamo lavorato spesso insieme, saremo qui la coppia di presentatori ufficiali del festival. Sono molto contenta di far parte di questo team, di questa organizzazione. Il festival è ormai vicinissimo. Siamo agli sgorti? Sì, tra qualche, forse poco meno di due ore. Dal punto di vista personale, Anna Passanisi come vede questo evento? Lo vedo molto, molto bene. È un evento importante. Io sono davvero orgogliosa di questo. Ho visto in questi mesi, perché grazie al movimento dell'estate augustana che si è mosso qualche mese fa, ho potuto seguire più da vicino l'associazione Quattro Terzi, conoscere ragazzi, tantissimi ragazzi, anche giovanissimi, che dedicano il loro tempo a questo progetto, che è già all'ottava edizione, quindi un traguardo importante, in una città che lascia molto a desiderare sotto vari punti di vista. Che in questo momento più che mai necessita di bellezza, arte? Sì, assolutamente sì. E questo è un grande segno, un segno importantissimo, un grido direi quasi, di avventura e di volerci stare in questo mondo di arte. Anna, buona avventura a te e al tuo collega Davide. Grazie. E buona serata. Grazie.